Gravissimo incidente sul lavoro alle fonderie Pisano di Salerno dove un operaio di 61 anni, Di Montoro, è stato travolto da un muletto che gli ha schiacciato le gambe ed un braccio. Immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale di Salerno, l'uomo è stato portato in sala operatoria. Presentava fratture esposte ad entrambe le gambe e ad un braccio. Prognosi riservata da parte dei medici che dopo l'intervento hanno disposto il suo ricovero nel reparto di rianimazione. L'incidente durante il turno di lavoro mattutino intorno alle 9, inavvertitamente l'operaio alla guida del muletto ha investito, sembra facendo retromarcia, il 61enne che non si era accorto a sua volta del sopraggiungere del mezzo in movimento. Sono apparse subito gravi le condizioni dell'operaio, soccorso immediatamente prima dai suoi colleghi di lavoro e poi dall'ambulanza che l'ha trasportato in ospedale. Fermate per un'ora le attività delle fonderie, riprese solo per consentire la messa in sicurezza a manutenzione e fermo dell'impianto, che era fra l'altro già previsto per la giornata di domani. Su quanto accaduto in una nota, la CGL, a firma del segretario generale e di categoria, rispettivamente Arturo Sesse e Francesca Delia, è stato chiesto che si faccia luce sull'incidente e si individuino se ce ne sono responsabilità. Purtroppo, dicono dalla Camera del Lavoro, il numero di incidenti in provincia di Salerno sul lavoro è in aumento ed è necessario che si investano fondi e risorse per prevenirli. Sul posto le forze dell'ordine che dovranno stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto, su cui sicuramente si aprirà un fascicolo. Da stabilire se sono state rispettate o meno tutte le misure di sicurezza imposte dalla normativa sui luoghi di lavoro. Grazie a tutti.